Sono l'unico candidato sindaco che ha già annunciato la giunta. Noi non siamo per il mercato delle vacche, per gli scambi appunto di voti in cambio di incarichi. È giusto che il cittadino, l'elettore sappia le persone con le quali intendiamo amministrare la città di Taranto. Quindi vi stiamo presentando, vi stiamo facendo conoscere i vari assessori. Oggi siamo con la professoressa Giovanna Bonivento, archeologa guida turistica, che ho designato come eventuale assessore ai beni culturali e ambientali, alla pubblica istruzione e all'università. Oggi parliamo di questi temi fondamentali. Cultura uguale bellezza, uguale crescita, una inclusione culturale rapportata alla società. La cultura che, come dire, entra, penetra nel tessuto socio-economico di una città. Sì, e non si può non creare rete concreta, operativa, con le istituzioni scolastiche del territorio comunale. Perché l'assessorato alla pubblica istruzione non ha solo il compito, diciamo, di aiutare le istituzioni scolastiche, nel momento in cui ci sono problemi di manutenzione, il tubo che si è rotto, il rubinetto che perde. No, è un incontro che ha a che fare anche con l'apporto che l'ente locale, il sostegno che l'ente locale può dare alle istituzioni scolastiche per quanto riguarda l'identità civica di questo territorio. E senza l'apporto del comune, ovviamente le scuole, le istituzioni che ormai sono ognuna attesa al proprio programma, al proprio piano dell'offerta formativa, ognuna, diciamo, va a ruota libera. Ma un ente locale può benissimo lanciare, per esempio, un progetto condiviso che riguarda, per esempio, l'adozione dei monumenti, l'adozione delle aree archeologiche, l'adozione di tutte quelle realtà che possono entrare proprio a livello di contenuti nelle scuole. In parole povere, una interazione tra ente comune e realtà scolastiche. Io la intendo proprio così, la interazione, come ha detto il nostro candidato sindaco, con Luigi Abate, concreta, fattiva, attiva. Non si può far fare le cose, ognuno fa per conto suo. È un progetto comune e condiviso e mi auguro anche entusiasmante in cui vengono coinvolti i giovani, ovviamente utilizzando le moderne tecnologie, perché ora le cose sono molto cambiate. Anche perché i ragazzi, vediamo, sono molto tecnologici e quindi coinvolti in questi processi sentirebbero ancora più propria la nostra città. Sì, perché l'obiettivo in realtà è anche quello di contrastare il vandalismo diffuso che c'è a Taranto. Un vandalismo che ha ragione d'essere, purtroppo, anche se ragione non ne ha, ha ragione d'essere nell'ignoranza. Non puoi amare ciò che non conosci. Nel momento in cui tu conosci, sai, proteggi il tuo passato, la tua identità. Tu, giovane, ti senti, come dire, orgoglioso di appartenere alla collettività. Ho in mente tante belle iniziative proprio rivolte ai giovani delle scuole. Grazie.